Questo rapporto, il quarto della serie, fornisce un esempio particolarmente importante e qualificato di collaborazione tra istituzioni nel produrre valorizzazione dei dati statistici di tipo amministrativo legati al mercato del lavoro. Lo fa in un anno particolare caratterizzato da tutta una serie di problematiche che sono ben note e lo fa anche per fornire tutti quegli elementi che possono essere utili per poter realizzare azioni ed interventi che derivano ovviamente dalla conoscenza per far sì che in qualche modo si possa recuperare le posizioni perse e riassegnare al mercato del lavoro questo ruolo centrale e importante che ha nella nostra società.